A qualcuno è venuta in mente l'idea di rispondere a quella manifestazione che c'era stata del 2 luglio dove hanno inscenato così delle forme di protesta con la fiamma tricolore a cui probabilmente loro prendendo lo spunto da alcune anomalie di carattere burocratico volevano oscurare questo messaggio politico che viene da Riace legato all'accoglienza Allora oggi ci sarà la presenza di tantissimi rifugiati che sono qua e vogliamo insieme dire che dobbiamo continuare a sperare per uno sguardo verso il futuro per le persone che sono a Riace e sono numerose ma questo abbiamo visto che è stata anche un'occasione per le stesse persone di Riace lavorano nei programmi di accoglienza perché ultimamente abbiamo aperto anche un asilo nido multietnico e permette anche a 14 operatori con le qualifiche che servono per avere un lavoro più 80 che lavorano nei programmi di accoglienza e ci sono dei ritardi, secondo me delle disattenzioni da parte di alcuni enti superiori al comune come la prefettura, il ministero, io mi auguro che si possono risolvere FRIEDOM, WATER WANTS FREEDOM, WATER WANTS FREEDOM, WATER WANTS FREEDOM FRIEDOM, WATER WANTS FREEDOM, WATER WANTS FREEDOM, WATER WANTS FREEDOM FREEDOM FOR LOVE Vengo dall'Africa, mi chiede di quanto pare A miei amici di Marconce non c'è da ne fare Il noire è un po' era, è molto africano È un lontano di fronte del ritmo di jamaicano Il noire è una droga, non posso stare senza Come il buono è impossibile senza coscienza Il noire è un DJ impara dell'esperienza Usa per la testa, ragiona, quindi pensa, pensa, pensa Freedom, one of one's freedom Just one's freedom Vengo dall'Africa